Col tempo generalmente si cancella la memoria, noi lavoriamo proprio in direzione opposta, cioè ricordare, trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni, che purtroppo è un compito che spetterebbe alla scuola, ma questo non si è fatto e noi cerchiamo di supplire anche con le nostre modeste forze, proprio per far conoscere ai giovani, alle generazioni che sono venute dopo la nostra, quella della generazione dei resistenti, che cosa è successo, come si viveva, io ci tengo molto a questo, quando vado a parlare nelle scuole con i giovani, informarli di come si viveva una volta durante il fascismo, durante la guerra, perché poi sono nate le quattro giornate per liberare la nostra città dall'occupazione nazifascista, dall'oppressione nazifascista. Napoli è una città non solo ribelle a tutte le forme di sistemi e soprattutto in questo momento storico, ma anche una città che ha fortemente consolidati i valori che ho detto prima di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, fratellanza, tanto è vero che siamo stati nel 1943 la prima città che si è liberata e Napoli ha sempre guardato le cose con anticipo, Napoli ha spesso anticipato cose che poi sono accadute con il tempo, l'ha fatto nel 600, nel 700, nell'800, nel 900 e anche oggi credo che Napoli è un punto di riferimento nell'attuazione dei valori costituzionali, sia come città, sia come abitanti e anche come amministrazione, noi siamo fortemente in prima linea nella lotta per i diritti. Gli studenti degli istituti superiori De Nicola e San Nazaro incontrano nella sala giunta di Palazzo San Giacomo un partigiano delle quattro giornate di Napoli, Antonio Amoretti, oggi presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Napoli, per raccontare i momenti vissuti in prima persona durante la liberazione dal nazifascismo, quando partecipò ai drammatici momenti delle quattro giornate all'età di 16 anni. Ho voluto fortemente questi incontri, oggi il presidente Ampi Napoli, Antonio Amoretti, l'altra volta l'avvocato Arcella, presidente dell'Associazione Nazionale degli Internati nei Lager, i ragazzi rimangono colpiti perché sono testimonianze autentiche, vere, di gente non che racconta cose lette dai libri, ma gente che ha vissuto l'esperienza drammatica dei Lager o che ha fatto, come Antonio Amoretti ha raccontato oggi, le quattro giornate di Napoli, ricordiamolo, prima città d'Europa che si libera con una rivolta di popolo dall'oppressione nazifascista. Io credo che siccome i testimoni viventi non sono molti, questo racconto sia importante e così importante in questo momento storico, quando nuovi fascismi avanzano, nuove crudeltà, rischi di guerre devastanti, quindi dobbiamo ricordare che significano i valori di libertà, di solidarietà, di fratellanza, di guaglianza, di giustizia che sono scolpiti nella Costituzione Repubblicana ma che devono sempre trovare nuova linfa e nuova vitalità.